ci sta un signore con un complesso visto che lui è balbuzziente non è uscito mai di casa a un certo punto frate non ce la fa chiudere ma è possibile mai che chi sta da stare sempre chiuse la coppa a casa va a casa e dice oh tu vai a scendere la coppa a questa casa tu la vita non sai niente non puoi stare sempre così ma ti faccio vedere una fotografia vuoi dire che non conosce chi sta chi è ci fa vedere la fotografia e dici chi sta chi è e chi io sa ma com'è chi sta è Gigi D'Alessio questo è il cantante famoso in tutto il mondo e tu lo sai non è stanco a pagarsi a scendere ma ti faccio vedere una fotografia questo sai chi è no 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 chi 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 è chi sta è Nino d'Angelo conosce tutto il mondo e tu non lo conosci questo si fa stare o balbuzziente dice ta 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 posso fare a te te una fotografia se fare a fotografia dice o conosce a chi chi sta chi è dice chi 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 sta è Giohanna se te una mujer tu 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 non mi ascenere la coppa ti 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 a sta a casa se questo video ti è piaciuto e vuoi vedere altri video lascia un like alla mia pagina ufficiale Savio Cavalli Cabaret